Niente più largo Mamiani. Il mercato dell'erbe è costretto a traslocare per almeno tre anni dal chiostro del San Domenico, che da ottobre sarà sottoposto a un restyling da quasi 7 milioni di euro, deve cercare altre soluzioni rispetto a quella che era la prima scelta, ovvero i locali dell'ex portello in forme servizi alle spalle del municipio. Una delle soluzioni che erano state prospettate dal comune e la più gradita dagli ambulanti del mercato dell'erbe che si sarebbero spostati al coperto di appena una cinquantina di metri dalla loro sede storica. Ambulanti che si sono scontrati con i costi d'affitto troppo elevati dei locali di Largo Mamiani di proprietà della BNL, ovvero 40 mila euro d'affitto all'anno scesi poi a 20 mila dopo trattativa col comune ai quali si aggiungono tutta una serie di costi giudicati non sostenibili dai commercianti. Noi come amministrazione comunale abbiamo dato non una soluzione ma ne abbiamo date quattro di soluzione adesso la prima che loro erano partiti che era piaciuta tanto e invece l'hanno scartata per una serie di loro problematiche anche dal fatto di creare il consorzio. Di conseguenza abbiamo dato due aree pubbliche che possono decidere e quindi rimanere all'aperto come in fondo loro nascono come ambulanti e noi in tutto questo abbiamo lavorato per dargli continuità lavorativa. Per noi è fondamentale che il mercatino delle erbe ci sia e come amministrazione non ci siamo tirati indietro anzi nell'aiutarli anche nello spostamento per il discorso del pagamento della TOSAP. Adesso aspettiamo una risposta, la prossima settimana avremo un incontro. Mi dispiace molto che ci siano state delle lamentere del fatto che questi commercianti potevano spostarsi in questo edificio avevano una scontistica del 50% da quello che chiedevano ed è chiaro che noi come comune avremmo aiutato ma prima ancora di fare la riunione successiva c'è stato detto di no quindi abbiamo subito scartato Palazzo Mamiani. Non è un problema, noi comunque abbiamo dato altre soluzioni e aspettiamo che ci diano delle risposte. Sono sette attività quindi io come assessore alle attività economiche mi sono sentita di lavorare per dare continuità lavorativa ma essere comunque qualcosa di dignitoso quindi abbiamo pensato anche davanti alla caserma dove già esistono due chioschi sia uno di un'edicola e un bar di fronte a un ospedale quindi c'è anche il passaggio di auto e lasciavamo dieci posti auto dedicati proprio al mercatino delle erbe. Oltre a questo adesso abbiamo trovato anche in via Gavardini nel cortile interno quindi rimarrebbero comunque in centro storico in un'area riparata. Diciamo che come amministrazione comunale come assessore alle attività economiche io mi sento di aver fatto tutto quello che potevo fare e soprattutto dare dignità a questi lavoratori che comunque dietro hanno delle famiglie. In tutto questo l'amministrazione l'ha subito recepito e anche il sindaco in giunta si è raccomandato di dare continuità al mercatino delle erbe sempre che le attività stesse lo vogliono.